Sono un assidio frequentatore di tutti i saloni da parecchi anni, Cosmobile che non penso mi deve durare affatto. Sono qui da Castelli perché loro sono un grande aiuto da tanti anni, dall'anno olimpico ci fanno le divise personalizzate. In un nostro sport dove l'aerodinamica è molto importante ci siamo resi conto in Galleria del Vento che alla fine la cosa più importante è il vestito piuttosto che il mezzo perché abbiamo notato più differenza tra l'abbigliamento a livello aerodinamico che addirittura sulle ruote. Oltre ad avere un servizio meraviglioso, avere degli amici qui, in quattro anni abbiamo vinto tre medaglie olimpiche e quattro titoli mondiali. Se poi aggiungiamo quelli di Alex, incominciamo sì, basta raddoppiare. Grazie, grazie dell'invito, grazie a Cosmobike e ci vediamo il prossimo anno.